Buongiorno e benvenuti a International News del 4 giugno 2021. International News, gli eventi internazionali raccontati dalle prime pagine dei più importanti giornali del mondo. Oggi cominciamo da Israele, dove si parla di un possibile cambio di governo e andiamo a leggere un articolo di Pierre Husky pubblicato su Internazionale lo scorso 3 giugno. Israele ha senza dubbio vissuto una delle giornate politiche più folli della storia. Una giornata di trattative che si è conclusa pochi minuti prima della mezzanotte, la scadenza concessa all'opposizione per formare una maggioranza. Il risultato è storico. Salvo nuovi colpi di scena, che non sono da escludere, Benjamin Netanyahu perderà il potere dopo 12 anni consecutivi e una presenza complessiva alla guida del paese più lunga di quella del fondatore dello Stato, David Ben Gurion. L'ostilità verso Netanyahu è l'elemento che unisce l'incredibile coalizione dei suoi avversari che hanno come parola d'ordine chiunque tranne Bibi, il soprannome con cui è conosciuto nel paese. Questa coalizione spazia dall'estrema destra, che sostiene le colonie, alla sinistra pacifista e conta perfino sul sostegno, senza precedenti, di un partito islamista eletto dai palestinesi in Israele. L'unico elemento che accomuna queste forze politiche è l'ardente desiderio di liberarsi di Netanyahu della sua presenza divisiva e dei suoi guai giudiziari. Quale può essere il programma di una simile coalizione? Voltare pagina dopo Netanyahu è la principale ambizione di questo governo, sulla cui durata, peraltro, è difficile scommettere. Il problema è che una volta compiuta la catarsi, la coalizione rischia seriamente di ritrovarsi davanti alle proprie contraddizioni, che sono tante. Il mandato di formare un governo, dopo quattro elezioni consecutive senza sbocco, è stato affidato al centrista Yair Lapid, che ha dovuto racimolare appoggi ovunque. Per esempio, si è rivolto a un ex protetto di Netanyahu, Naftali Bennett, che in cambio della propria defezione ha ottenuto la promessa di ricoprire per primo l'incarico di capo del governo, ruolo in cui, secondo l'accordo, si alternerà con Lapid. Bennett è al contempo un milionario del digitale, un ex leader dei coloni ebrei della Cisgiordania, un esponente dell'estrema destra e un nazionalista religioso. Come potrà un uomo con un simile profilo convivere con il Meretz, l'ultimo sopravvissuto della sinistra laica, favorevole alla pace con i palestinesi? E come si può spiegare il sostegno assegnato al governo dagli islamisti di Mansur Abbas? L'appoggio di un leader islamista è l'elemento più sconvolgente. Si tratta di una prima assoluta dalla creazione dello Stato ebraico. Mansur Abbas ha ricalcato la sua strategia su quella dei partiti religiosi ebrei, come la sefardita Shas, pilastro di tutte le coalizioni di governo, che ha negoziato vantaggi economici per la sua comunità. Mansur Abbas ha fatto lo stesso, ottenendo benefici sociali per i cittadini palestinesi di Israele, quelli del 1948. L'unica certezza all'indomani di questo accordo inverosimile è che niente cambierà nel conflitto israelo-palestinese. L'argomento, infatti, non è stato neanche evocato, tanto divide profondamente i partiti che formano la coalizione. Due settimane dopo la fine della guerra con Hamas a Gaza, il tema è già sparito dall'agenda politica israeliana, come sempre ossessionata dal personaggio di Benjamin Netanyahu. Ci sarà sempre tempo di pensarci quando Bibi avrà fatto le valigie. Andiamo avanti con un altro articolo pubblicato su Internazionale. Laura Kodruta Covesi, spero si dica così, è la magistrata rumena che ha scritto una pagina della storia europea diventando il primo capo dell'ufficio del procuratore generale europeo, una nuova istituzione indipendente incaricata di combattere le frodi sul bilancio comunitario. Il caso ha voluto che il Tribunale avviasi i suoi lavori il primo giugno, lo stesso giorno in cui, per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea ha emesso debito comune per finanziare il piano di rilancio da 750 miliardi di euro. Il Tribunale europeo indagherà sui sospetti di frode che inevitabilmente non mancheranno. Questa nuova istituzione potrà condurre inchieste transfrontaliere su frodi che riguardano fondi europei superiori ai 10.000 euro, su vicende di corruzione o su episodi di riciclaggio di denaro. Gli autori delle infrazioni saranno comunque rinviati davanti alla giustizia degli stati membri. Ma non tutti i paesi europei parteciperanno all'iniziativa. La nascita di questo Tribunale è stata dolorosa e al momento è sostenuta soltanto da 22 paesi dell'UE su 27. Ungheria e Polonia, ma anche Svezia, Danimarca e Irlanda non ne faranno inizialmente parte per ragioni diverse. Un altro problema è dato dal fatto che la Slovenia, che il primo luglio assumerà la presidenza dell'Unione, vive una mini-crisi politica a proposito della scelta del magistrato, che sarà il referente del Tribunale europeo, all'origine delle dimissioni del Ministro della Giustizia a fine maggio, un cattivo esempio da parte di un governo che si avvicina sempre di più al populismo. Come cambiare davvero le cose? Va detto che la posta in gioco è estremamente alta. Le frodi stimate sul budget europei, infatti, ammontano a centinaia di milioni di euro e, ancora di più, i mancati introiti dell'IVA che sfuggono agli stati a causa delle frodi trasfrontaliere. Sulla carta il Tribunale europeo avrà poteri importanti per compiere la sua missione, ma sarà la pratica a dirci se questa nuova istituzione potrà realmente cambiare le cose. In linea di principio, il procuratore viene nominato per un mandato unico di sette anni, che può essere revocato soltanto dalla Corte di Giustizia europea, aspetto che ne garantisce l'indipendenza. Il procuratore capo sarà spalleggiato da 140 procuratori delegati nei paesi firmatari. In Francia, per esempio, saranno cinque. Alla guida della nuova istituzione, Laura Codruta Covesi, gode di grande legittimità. La giovane donna ha guidato la direzione anticorruzione in Romania, prima di essere allontanata da un governo corrotto. L'ex governo rumeno, in seguito sfiduciato dagli elettori, aveva tentato in vano di opporsi alla nomina di Covesi alla guida del Tribunale europeo. Alla fine, la magistrata rumena ha superato anche l'ultima prova, ovvero la sfida di un candidato francese. Parigi ha avuto l'eleganza di ritirarsi perché il simbolo di questa donna coraggiosa è un buon auspicio per la nuova istituzione. Gli incorruttibili incaricati di sorvegliare i denari europei possono fare molto per rafforzare la fiducia dei cittadini dell'Unione nel momento in cui arrivano i fondi del piano ripresa. Tocca a loro dimostrare di essere all'altezza. Secondo una valutazione della France Press, nel mondo sono state somministrate più di 2 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19 e diversi stati hanno deciso di aprire la vaccinazione alle persone con più di 12 anni, mentre i ministri della Salute del G7 si incontrano per discutere le nuove modalità di immunizzazione. Sono ben più di 2 miliardi le dosi che sono state quindi iniettate in 215 paesi o territori, meno di sei mesi dopo l'inizio delle prime campagne di vaccinazione nel dicembre 2020. Al di fuori dei microstati, Israele rimane il paese con la campagna di vaccinazione più avanzata, con quasi sei israeliani su dieci già completamente vaccinati. In testa anche paesi come il Canada. Il 59% della popolazione ha ricevuto lì almeno una dose, il Regno Unito 58,3%, il Cile 56,6% e gli Stati Uniti 51%. Mentre nell'Unione Europea 254,98 milioni di dosi sono state somministrate al 39% dei suoi abitanti. In Africa, colpita da un nuovo aumento dei casi, le consegne di vaccini sono quasi ferme. Solo il 2% degli africani fino ad oggi ha ricevuto almeno una dose del vaccino. Dei sei paesi che non si sono ancora vaccinati, quattro sono in Africa, Tanzania, Burundi, Ciad e Eritrea. Gli Stati Uniti hanno annunciato che somministreranno 60 milioni di dosi di vaccini all'estero tramite il sistema COVAX e 20 milioni di dosi ai suoi vicini immediati. Affinché la vaccinazione non resti un privilegio dei paesi ad alto reddito, i ministri della salute delle grandi potenze del G7 si incontrano a Oxford per discutere la condivisione dei vaccini con i paesi poveri. Lavoreremo per cercare di raggiungere l'obiettivo di rendere disponibile il vaccino in tutto il mondo, ha promesso il ministro della Sanità britannico al suo arrivo. Diversi paesi hanno anche deciso di aprire la vaccinazione agli adolescenti. Il Regno Unito ha annunciato il ritorno della quarantena obbligatoria fino a 10 giorni per i passeggeri in arrivo dal Portogallo. Questa misura si spiega con il quasi raddoppio del tasso di positività al Covid-19 in questo paese e la presenza di una specie di mutazione nepalese della variante Delta, secondo il ministro dei trasporti Grand Shaps. Chiudiamo questa edizione di International News con una carrellata di brevi notizie dal mondo. Sri Lanka, il 2 giugno, la porta-container MV Express Pearl è parzialmente affondata al largo della capitale Colombo con 350 tonnellate di carburante a bordo. La nave trasportava anche 25 tonnellate di acido nitrico e di altri prodotti chimici e due settimane fa a bordo si è sviluppato un incendio. Una grande quantità di plastica ha già raggiunto le spiagge della località turistica di Negombo ma si teme lo sversamento del carburante. Nicaragua Cristiana Ciamorro considerata la principale avversaria del presidente Daniele Ortega nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre il 2 giugno è stata messa agli arresti domiciliari dopo essere stata incriminata per riciclaggio. Ciamorro, una giornalista di 67 anni ha denunciato un complotto e la figlia di Violetta Ciamorro che sconfisse Ortega nelle elezioni presidenziali del 1990. Cuba Il 2 giugno il quotidiano Gramma ha annunciato il via libera del governo alla creazione di piccole e medie imprese nel settore privato. Il principio è stato adottato dal Consiglio dei Ministri e sarà ora formalizzato in un'apposita legge che almeno all'inizio riguarderà un numero limitato di aziende. Circa 600.000 cubani lavorano già nel settore privato in assenza però di un quadro giuridico che permetta di creare nuove aziende. Cile Il presidente Sebastian Pignera conservatore ha affermato a sorpresa il primo giugno che è arrivata l'ora di legalizzare i matrimoni omosessuali. Pignera chiederà al Parlamento di esaminare con procedura accelerata un progetto di legge bloccato da anni. Il presidente il cui mandato si concluderà nel marzo del 2022 si era più volte schierato contro i matrimoni omosessuali. Stati Uniti Il primo giugno il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha ratificato una legge che vieta alle donne e alle ragazze transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili organizzate da istituzioni pubbliche. DeSantis ha affermato che l'obiettivo è preservare l'integrità delle gare. Le associazioni LGBT hanno definito la legge discriminatoria e annunciano ricorso. Nigeria il 2 giugno le autorità dello stato del Niger nel centro ovest del paese hanno confermato che 136 studenti sono stati rapiti domenica scorsa in una scuola privata musulmana a Tagina. Il rapimento di massa è stato attribuito a un gruppo di banditi. E questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di International News. Un caro saluto da Maria Martina. International News gli eventi internazionali raccontati dalle prime pagine dei più importanti giornali del mondo.